Domenica 26 febbraio i sostenitori del PD, anche se non iscritti al partito, potranno scegliere chi tra la deputata Eli Schlein e il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, diventerà il nuovo segretario. Dopo il voto dei circoli che ha visto prevalere in campagna la mozione Bonaccini, la parola passa alla gente. Gazebo e seggi aperti dalle 8 alle 20. Un appuntamento elettorale aperto a tutti, anche ai sedicenni e agli stranieri residenti in Italia, così come agli studenti fuori sede. Tante le aspettative dopo la batosta alle politiche che ha portato il PD all'opposizione. Gaetano Manfredi ha auspicato una larga partecipazione che aiuti a ricostruire il dibattito interno. Spero che domani sia una giornata di rinascita, ha detto il sindaco poco prima che Bonaccini tornasse proprio a Napoli, dove ha aperto alla possibilità del terzo mandato di Vincenzo De Luca in regione Campania. Dichiarazioni che hanno riacceso lo scontro con la Schlein, che ha risposto questa è l'idea di cambiamento che ha in mente Bonaccini? In Campania saranno aperti 403 seggi in tutte le province. Ad Avellino il segretario Nello Pizza ha rinnovato l'appello al voto e ha illustrato le modalità di partecipazione auspicando che dopo il 26 febbraio il PD esca più forte e unito. Occhi puntati sul capoluogo irpino scelto dal gruppo di ricerca Candidate and Leader Selection della Società Italiana di Scienza Politica per uno studio su scala nazionale. Si tratta di una ricerca politologica quindi quello che noi vogliamo fare è andare a rilevare il profilo socio demografico soprattutto ma anche culturale in alcuni punti dell'elettore o dell'elettrice che ovviamente il questionario è anonimo e resta tale.